La seconda sezione penale della Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Catania contro le ordinanze con le quali il Tribunale del Riesame aveva rimesso in libertà l'avvocato Fabio Cavallaro, indagato dalla Guardia di Finanza di Catania per truffa aggravata e autoriciclaggio. Secondo l'accusa illegale avrebbe ottenuto il riconoscimento di un indennizzo per le decine dei suoi assistiti tramite sentenze del Tribunale del Lavoro in cause per licenziamento irregolare da parte di una partecipata di un ente pubblico, consegnandone però ai clienti una parte trattenendo talvolta tutto per sé. La Cassazione ha ordinato anche la restituzione di 750 mila euro inizialmente sequestrati, annullando così l'ordinanza emessa dal GIP. L'avvocato Dario Pastore legale di Cavallaro esprime viva soddisfazione per la decisione. La Suprema Corte, spiega Pastore, ha riconosciuto la correttezza delle argomentazioni adottate dal Tribunale del Riesame che aveva scarcerato Cavallaro e restituito per intero il patrimonio sequestrato. Affronteremo con serenità il processo in cui l'avvocato dimostrerà l'assoluta correttezza del proprio operato professionale. Grazie a tutti.